È ormai un anno che il gruppo Royal Unibru può vantare una proprietà per quanto riguarda il settore dei soft drinks. Parliamo un po' del rilancio che riguarda questo compagno. Sì, quindi per noi è molto importante presentare questa nostra nuova gamma, quindi partendo da quelle che sono le nostre icone lemon soda e orange soda. Abbiamo deciso quest'anno di aggiungere alla gamma proprio il tonic soda, una ricetta storica di crodo che abbiamo rivitizzato in chiave un po' più moderna e anche una ginger soda che ci permette di presentare al trade una gamma completa proprio per lavorare su tutto quello che è il mondo mixology. Nell'ambito craft beer, qui a Rimini, Ceres lancia una novità assoluta che dà vita anche ad uno stile di birra inedito. Sono Franco e vi presento la Opieil, 6.9 gradi alcol, 40 dibo. L'innovazione di Ceres, Ceres che è stata la birra che ha fatto conoscere la specialità negli anni Ottanta. Cambiano le generazioni e con la nuova generazione dei brewmaster scandinavi da un'idea italiana proponiamo questa birra. Che caratteristiche ha questa birra? Allora, la caratteristica principale è la bevibilità, lavorazione di base di Strong Ale. Abbiamo creato un nuovo stile, Opie per dry hopping, con una lavorazione profumata di un lupolo americano.